Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ricevi in questo nuovo video di Call of Duty Bene andiamo pure avanti da dove siamo rimasti vediamo la nostra Cassie Pagata Mertà Movimenti in TRP3 e 5 Modifiche alle navi cargo confermate Attaccano la flotta Sarà un massacro Calmate lente Quante risorse ancora attive ci restano in zona? Scansione in corso Collegamento Squadra Sentinel, check radio Sentinel 2-2, check Sentinel 2-1, forte e chiaro Adesso che cazzo dovremmo fare? Ricevuto Prendete posizione sulla porta aerei Io sto arrivando Ah c'è anche lui Bene Sono andato a divertirsi San Francisco e Call of Duty E siamo a posto Cazzo Atlas punta agli armamenti della porta aerei Piazziamo dei jammer sui cannoni per dare tempo ai tecnici Abbiamo troppe nemiche in tutta la nave Proveranno a occupare la plancia Muoviamoci Questa ce la pagheranno cara Eh sì eh Questa è cara Ok 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 vediamo se riesco a ammazzare gli altri Sperando che non siano I miei e che ammatterò Ok voglio vedere Ok Ok Una volta che so dove devo andare Non è un problema E' più sferlo Ok Allora che porca miseria Volevi farmi il culo eh E ci è riuscito Da dietro Porca miseria Come faccio a controllare che da dietro Allora Riproviamoci Adesso siamo verso la fine del gioco Quindi è normale che sia un pochino più Dura Al volo Altri Ne arrivano un sacco Ah ma sono Amici Che cazzo Non si capisce un cazzo No Al riparo Tieni giù con la testa Vai al cannone Ti ha del jammer Ok Posto Altri No eh Ok Che cazzo è che lo I maroni Ok stavolta Stavolta Non mi freghi Aspettiamo di Ammazzare il più che possiamo Spero che non sia un infinito Spero che se no Un bel casino Ok 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 andiamo Dai caricare Ok Dove è che devo piazzare Questa roba Ovviamente è rimasto solo un colpo Piazza quel jammer Si si un attimo Non è che Mi riesco Senza problemi a far tutto Ok Olè Sono arrivato eh Piazziamo Mitchell Il jammer Sto facendo Rilassati E se no È anche un casino così Jumper in arrivo Jammer piazzato Ancora uno Ok Dove è l'altro? Due warbird in arrivo da ovest Che bello Non c'è appena notizie molto piacevoli Che riesco a fare Elicotteri Atlas Scendono altri nemici Cazzo di pausa qui Col warbird si è appuntato Riparati Si dimmi dove devo andare che ci vado volentieri E non è che sia facile eh Quanti sono amici Allora piazza là Ok Ce la faccio ce la faccio Eh che cazzo però Ok Ok Piazzo piazzo Arrivo che piazzo Fishingronatati Granitati Ok F Perfetto Ce l'abbiamo fatta Questo dovrebbe rallentarli Cannoni sicuri Andiamo in plancia Ok questo è tutti i miei Andiamo pure Seguiamo Dov'è? Mi fanno E arrivano altri Apparisce Altri all'attiva di carico Ok Piazza sono dappertutto Qui c'è da romperci il collo Mamma mia Ce l'abbiamo fatta Vediamo pure Magari c'è Esatto Lo credo eh Non lo è Per un attimo ci ho sperato Accidenti Qua non c'è niente vero? Raggiungeremo la plancia Sì C'è proprio un cazzo eh Sì invece C'è 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 Vai prendi Prendi Grande così Sono contento dai Ho preso un altro Questo facciamo un bel effetto Che ci vuole Ah Un bel pieno di munitioni Quello che ci fa Per andare avanti C'è qualcosa C'è qualcosa Facciamo al posto dai Fate il pieno Ok Cosa Cosa Corte la metti sempre Non c'è corrente Misori notturni Oh io Solo da adesso C'è io Oh non c'è problema Se li vedessi Certo è quello forte Porca miseria Ok Ok carica Divendo Divendo Vediamo un po' se escludiamo gli altri Ecco di qui Perfetto Perfetto C'è un altro eh C'è qui Oh ma c'è questo forte Ok 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 Ma questo è Korn No è Nox Ok Ok andata Perfetto Benissimo Benissimo E adesso dove devo andare Devo andare qua Volete saperlo Devo andare di qua Ok Io direi che bisogna che posso toglierlo Ok Benissimo Il nemico controlla la contraerea laser Dobbiamo arrivare dall'altra parte dell'hangar Cazzo Dobbiamo arrivare dall'altra parte dell'hangar Cosa proprio facile facile Perfetto In due secondi Perfetto Perfetto Qui c'è quello la che lo riprendono ma Ok 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 Adesso Asp Fatemi andare qui Eh Devo capire come ammazzare quello Spero vedere un po' di Di munizioni Ok Ok Ecco qua No che mister c'è il colpo dietro Porca miserica Ok Perfetto Ok Ok Adesso Mi fornisco un attico E vado da quello Bastardo Lì Ok No 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 Cavoli Chi è che mi spara con questa Irruenza così E questo è ancora vivo? Ok Eh Ora 12 adesso non ho tempo Però forse da qui Oh cosina Chi sa se magari da qui riesco A rompere il culo Chi lo sa Ma no voi due Oh santa miseria E adesso vi insegno io come ci fa Ok Perfetto Ok 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 Cazzo cazzo di tv c'ha Oh santa miseria Ok Andiamo qua Andiamo qua Aia 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 Ma è un culo però Sai giù Oh così almeno siamo a posto eh E adesso mi rompo le cugliaroni Ti ho preso il punto Il tuo punto preferito mi dispiace Ok ci siamo Oh vedete che non era difficile Era una cacata Perfetto La porta Bene andiamo Scusate per il fail ma Devo capire Attenzione Rileviamo un contingente atlas in avvicinamento Lancio di capsule alle vostre coordinate Ok 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 sto guardando scusate Oh bene Sono contento dai Eh mi fai passare ragazzi Andiamo Oh Oh Ah Ho fatto prendere un colpo Non ci devi Eh si è super giusto da quell'altro insomma Oh Ah Questo era bello Però vabbè Oh Blackout Passare l'azione notturno Si un attimo Però Però io C'è blackout Ma sono proprio Alla a merce di tutti Tranquilli vanno Nessuno li prende Eh a me mi massacrano Ok Vedi il movimento di questo Vedi il movimento del dito Vedi il movimento del dito Ok Eccolo qua Ok Che è andata Ce ne sono veramente tanti eh Allora vediamo se riesco a prenderlo da qua eh Ho solito uno squacorame Credibile C'è Sì Andata Vediamo se c'è qualcosa qui Non c'è un casso Andiamo pure Perfettico Che cazzo fa questo? Che cosa cazzo ha fatto? Vabbè Eh si è estragliato per te Ho due flessioni per dai Oh salve Ti vedo subito Il terminallo Il terminallo è qua Oh Devo puntare la nave cargo? Come la punto la nave cargo? Vedi i pulsanti Eh aspetta che qui Eccidetti E' molto Oh Aumentiamo un po' la sensibilità Va Aumento tanto Perché qui Vedo che si sposta molto Lentamente Eccoci qua Oh qua Nave cargo colpita Passo all'altra nave Perfetto Aspetta che finirà Ok 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 Affondate Ok Andata Oddio Ce ne faccio un'altra Che inferno Eh si in effetti Questo cambierà ogni cosa Eh già E ora E ora che succede? Adesso Irons ha ammazzato migliaia di innocenti sul suolo americano Adesso Gli diamo la caccia E la ammazziamo noi Eh Andate piuttosto bene dai Ho preso un sacco di roba Adesso ho anche un punto che per adesso non c'è modo di spendere È vero perché appunto non va niente E quindi nulla Io direi che possiamo tranquillamente guardare la caccia e poi ci vediamo nel prossimo video Andiamo alla legata Ok Il mondo si pone una domanda Perché ho attaccato gli Stati Uniti Per più di un secolo gli Stati Uniti hanno tenuto il mondo in un perenne stato di conflitto Più e più volte abbiamo visto gli esiti catastrofici di queste politiche militariste e belligeranti Queste guerre non hanno mai portato alla pace Queste guerre hanno soltanto alimentato altre guerre Gli Stati Uniti hanno dettato la linea solo perché erano i più forti Ma ora non è più così Non è l'inizio di una guerra Ma la fine di tutte le guerre Dopo San Francisco il mondo libero si era rivoltato contro Atlas Irons era chiuso nella sua base di New Baghdad Tagliando qualsiasi contatto Entrambe le parti sapevano che cosa aspettarsi Dovevamo volare con la 37esima avio trasportata nella fase iniziale dell'assalto Per poi separarci e infiltrarci nel centro di comando di Atlas per prendere Irons Per Cormac era la fine di un viaggio Un giorno che aspettava da cinque anni Cambio di programma Dovrete spostarvi da nord-est e coprire la squadra blu mentre sorvola il bersaglio Ricevuto Credo avremo vita faccia Fosse in te aspetterei a dirlo Non mi giocherò tutte le carte in una volta Avremo un solo tentativo per catturarlo Sarà sufficiente Lo so e non provate a morire non prima di aver trascinato Irons davanti a Laia Non vedo l'ora signore Ok, buona fortuna Non c'era altro da dire Sapevamo che cosa andava fatto Era l'inizio della fine Almeno per uno di noi Wow, niente che dire Accelerazione Diamo un ottimo filmato e poi ci salutiamo Sentinel 2-1 verso APG Romeo Victor Naut 5.000 piedi Ricevuto, mantenere volo radente fino a New Baghdad Kimping chiudo Unità Sentinel, ascoltate Incaggiare chiunque sia privo di segnale Sentinel Ok, ho capito, perfetto Ci possiamo fermare qui Ragazzi per questo video è tutto Vi invito come al solito A dare un like, un commento se vi piace la serie E di farmi sapere cosa ne pensate Adesso vi invito solo a Toshiba Ciao ciao